Va bene, ci sentiamo dopo, eh. Grazie. Stato sul centro, tramite l'Aventino, sollecita il cambio sul posto delle parti via portante, perché siamo tutti quanti invegliati. Allora, cambio sul posto. Benissimo. Bravissimo. Paolini, bravi. E questa qui, che c'era la mano, non ci portiamo da prima. Sì, scelgo. Buongiorno, del podi 106. 106 avanti. Le vite è possibile. Diretti da Cilidanova, facciamo rientrote in gara, stiamo forzando il trotteto stranale, ti concordiamo che dopo Cilidanova, 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 non è vero che questo. Cicciuto.